Sono tornato ieri sera da Malè dopo un mese e mezzo di disintossicazione perché per la verità quando io arrivo a Malè ho la fortuna di poter girare la chiavetta e non pensare alla stazione delle Corriere, al Salatorio del Clero, all'Asilo Nido eccetera eccetera eccetera. Giro e non ci penso. Quando torno, in primi momenti, la sera poi non l'ho visto quasi nessuno, la mattina, la mattina prima ho incominciato a incontrare quei due bugiardi che sono di fronte a me, bugiardi, perché pur di avere l'audience, siccome non sa come fare a serrare certi bugi, allora, ah Carlo, tu ti domanda come sbaglio te sei, e ti devi fare queste trasmissioni, e ho una serie di sviolinature che sono bravissime. Io ci credo, ci credo, ci credo, o quantomeno faccio per fargli un piacere perché sennò parchi vaga dal culo per aria, e sono qua, di ritorno da Malè, vi informo che respiro ancora, con un po' di mal di schiena, ma mi sono anche stufato di dire quello che ho. Allora, quando mi incontrano, come è stato? Benissimo, perché se oso dire, insomma, con un po' di cervicale, mi fa male il po', ah, dottor, tra virgolette, vorrei arrivare io all'età come è arrivato lei nelle sue condizioni, ostia, allora dì, basta, chi mi interroga, sto benissimo, per voi che mi ascoltate, ho mal di schiena, ma sto benissimo, ho il diabete, ma sto benissimo, ho 90 anni, come non li avessi, e so questo passo. Però, non ho fatto neanche in tempo ad arrivare che ho già incontrato tre, quattro persone venendo in giù, ah, dottore, devi fare una trasmission su quella roba lì, ah, dottore, allora ho pensato, forse i cancari sono qui dopo, si andrì lì, e allora oggi, 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 vorrei vedere con voi due cose, uno l'area cattòi di Riva, di cui abbiamo già parlato, è stata lì per anni, tutte le volte che passevo con la macchina, diciamo, ma dottore, che schifo, quella roba lì, la metterà bene a posto un giorno. Allora è arrivato quel signore famoso, che io chiamo Hager, il quale, col Darioma, perché a giorno d'oggi chi fa operazioni private, ha dei disturbi cerebrali, perché in questo paese, anche quelli di destra, l'ho ripetuto più di una volta, hanno uno spirito comunista, per cui il comune non ha soldi, non lo compra, però se per caso compra il privato, eh, se compra il privato, che porco padrone, porco padrone, come ha fatto a fare quei soldi lì? Tamanini, quando ha formazione, bella bravura, l'Arcese, bella bravura, i Federigoni, bella bravura, però loro non le compra, perché non lo fa lo Stato? Perché non l'ha fatta, è il comune di Arco l'Arcese, perché non è stato il comune di Arco, un'infinità di cose, allora che sa, talmente, che insomma l'area Ferrari, che le sa da parecchio tempo, che io lo so per altre ragioni, che era in vendita, un privato, ma mi inserì anche ha disposto il Bagossi, benedetto, che è anche simpatico il Danilo, colgo l'occasione per salutare il Danilo Bagossi, che mi è particolarmente simpatico, e poi raccompromino, ragazzi il problema è che ho bisogno di ampliarmi, ho bisogno di fare, no, stia no, iniziativa privata, speculazione, farà soldi, che da da lavorare operai, no, quello non conta, quello non conta, quello è sfruttamento del popolo, un che da da lavorare alla gente è sfruttamento dei lavoratori, uno ha avuto il coraggio di scrivere una lettera a questa redazione, da Bolzano, perché si vede che avrà qualche disturbo cerebrale e ha visto la trasmissione, sull'Arcese, non vi dico che cosa ci ha scritto sull'Arcese. Allora io taccio, ma faccio un respiro profondo, ma io mi domando quale operaio, quale persona sarebbe stato capace di fare quello che ha fatto l'Arcese, o quale altra persona sarebbe stata capace di fare quello che ha fatto, è il Bagossi, ditemelo, ragazzi. E allora salta fuori che l'aria Ferrari vendita, il comune pensa immediatamente, potremmo fare il centro dell'operatività dei nostri lavoratori, ma dove ragazzi, ma dove, ma dove che il comune si mette a fare i lavori, dovrebbe appaltare tutto, chiudere quel reparto lì, chiuderlo, perché purtroppo, e non vado avanti perché se no magari mi denuncia, lasciamo perdere, voglio dire, cosa tenete in piedi il cantiere delle cose, ma c'è appalta, che da mettere a posto i Bolognini, tanto diciamo agli altri fori, che da fare i giardini, appartate, che sono l'Angelini, bellissima cosa, Gelbontadi, bravissimo giardiniere, quell'altro foro, come si chiama, aiutatemi, Rizzi, c'è me Rizzi, e gli si appalta i giardini. Sono stato a Rabbi, sapete dove è Rabbi? sulla valle, andate a vedere il parco giochi di Rabbi, andatelo a vedere i nostri giardini qua schifosi, dove è la terza volta che mettono giù il verde, è la terza volta che il verde viene calpestato, ampliate il gioco, il parco giochi, ma ragazzi, ma devo andare in Valderabbi a vedere un parco giochi del genere, devo andare a Malè a vedere, dovreste vedere voi due falsi bugiardi, venire a vedere il parco giochi di Malè, mi piacerebbe, è un giardino enorme, è enorme, e allora fate il parco giochi, se non sono capaci di gestirlo, fate il parco giochi, che la sia morta lì, e allora guardate, sono sceso disintossicato, sono sceso di buon umore, ho incontrato tre persone, sono incassato, ma è possibile, mi torno a Malè, mi spiace per voi due, mi torno a Malè, la stazione della Corriere, l'è là, ma il comune pensa di prendere l'area Ferrari, ma un giorno il sindaco dice che la vuole prendere, un giorno dopo Bresciani, che è il vice sindaco, dice no, è sì o è no, ma cosa andate a mettervi a prendere, Degel al Bagossi, all'iniziativa privata, levatevi dai piedi che avete fatto solo danni, solo danni, ma non esiste un paese, io vi sfido, io vi sfido, vi invito, venite su in Val di Sole a vedere, ma noi che avevamo chi, è Giuliani, che è il consigliere provinciale, ostia, grande Giuliani, ostia, abbiamo avuto tre anni il Benedetti, grande anche quello, grande Assessore, invece che una volta, caro Benedetti, se mi ascolti, questa te la dico, perché le impesche la gocchì, ma voglio dirtela, quando sei stato tre anni Assessore, molte volte sei stato condizionatore di quella Giunta, perché se no che era il tuo voto ne va dal culo per aria, gli avrei detto, vi do il voto, se mi fate la galleria, perché a Mesolombardo che la galleria è doppia canna, perché se andate a Madonna Capiglio che la galleria è doppia canna, ma è mai possibile una roba compagna? E noi siamo qua, che per andare a Roveretto che vuole un'ora, se non un'ora e mezza, è un'incazzatura continua, sono venuto ieri da Malè e sono venuto disgraziatamente da Destradige, ho fatto la Destradige, oh ragazzi, Damori, a passo d'uomo, sono arrivato ad Arco, Damori, in 40 minuti, ma è possibile? caro Giuliani, appianteva i piedi miei, anche adesso li pianterei su, ieri al Pat Rossi, te ciappi il voto mio, non te dago, e quell'altro dal dosso e compagni, ma è qui il Basso Sarca, gli discute se fare o non fare l'area alla Ferrari, gli discute perché sembra che questo hagger, il venasol, il faga, chissà cosa, cosa potrà fare il hagger, la zona, perché parliamoci anche chiari, l'orso il 98% della popolazione non lo vuole, perché questa è la verità, ma il 2% di questi ambientalisti, animalisti, perché qui che mangia le pecore, che mangia l'ase, che coppa il maiale, dove ne frega niente perché quelli non sono animali, è l'orso l'animale, ragazzi, sono i lupi, gli altri, le peste da piedi, quello che sia, il gallo cedrone che coppa, i cacciatori, aprono la caccia, ma ti puoi immaginarti, poi sei che coppa la maiale, ma vogliamo, ma l'orso, l'orso, allora signor sindaco Betta, me lo invitate qui una volta, mi facciamo, guardami un momento, il baffo, il baffi che se lo vedeste adesso sembra, no Molotov, ma dove con i passi lì, perché non ci troviamo qua, perché non mi dice Betta che anziché spendere i soldi per mettere posto alla veranda che tra tre anni sarà nelle stesse identiche condizioni, perché non sanno come utilizzarle regolarmente, diventa un cesso per chi fa la pipì, perché va su con le bottiglie della birra e la butta per terra, quando non si droga, perché li ho visti io, eh, perché questo sarà la fine, perché non mettono a posto l'asilo nido che è lì che croce, perché? Perché non mettono a posto, perché ne hai ridotti con le palme in quelle condizioni lì, ma perché? Eh, allora uno dice, ma ragazzi, lì che è il cappello dell'Unione Sovietica, mi hai dato quel cappello lì un attimo, mi fai la cortesia, dammi il chimono, dammi il chimono, ecco, no, quell'ì no, quell'altro, quello dell'Unione Sovietica, quell'ì, bravo, dammi quel limono, dammi qua, ecco, vedete questo cappello? Allora molte volte mi viene da pensare che in una situazione del genere, anche per quel signor che ha fatto la mozione sull'antifascismo, che vuole sta roba qua, ci vuole sta roba qua? Voglio vedere io se gli ambientalisti che sono il 2% neanche riescono a fare quello che fanno con questi signori qua, no, non lo farebbero e qua sono ascoltati solamente quelle minoranze, però io vi posso dire una cosa e concludo, che parlando con molte persone, mie amiche su della Val di Sole, la gente non sa per chi votare, ma ve lo vi rendete conto? Pensate se fossero le elezioni politiche, che può smuttarlo via dai tuoi capecchi, però io che ho sempre combattuto sta roba qui, adesso qualche volta che faccio un pensiero, un bel Stalin, pensate, un bel Stalin, perché lasciatemi, allora l'antifascismo, Ballardini ha scritto un bellissimo articolo sulla Costituzione, il responsabile, il referente della democrazia, eccetera, eccetera, ma io mi domando, secondo voi, è meglio firmare una carta dove si dichiara che sono antifascista o fare le cose contro il fascismo che tutto sommato è un po' imperante? Perché niente Manniti ha detto l'altro giorno ho temuto per la democrazia, ha detto Manniti, il menesto degli interni, ha detto ho temuto per la democrazia, vuol dire che qualcosa c'è stato, la magistratura non funziona, vi devo raccontare un fatto, perché questo è autentico, poi chiudo. Allora Amalè c'è un professore universitario di Napoli che è da 30 anni che va a Monclassico, il maestro Valenti, che è stato il maestro della famosa Samantha, abita di fronte alla casa di mia moglie, proprio di fronte, e lo vedo tutti i giorni, mi va alla cara, mi riesco a raccontare una roba, mi dice, ma devo raccontare, allora viene dentro, ci sediamo. Allora questo professore universitario aveva un appartamento nel centro di Napoli, è andato in pensione, questo qui ha collaborato con questo Valenti per i sassi, perché il Valenti è un grande raccoglitore di minerali, è noto in Trentino e credo anche in Italia, perché ha veramente una notevole cultura in questo settore. Bene, lo trova, e dice come stai, ma sto bene, ma se sapessi cosa mi è successo, ma cosa ti è successo? Ma le robe ostie, guarda io non ne posso più. Allora gli racconta che aveva l'appartamento nel centro di Napoli, siccome c'era troppa confusione, lui ha quasi 80 anni, la moglie non so, anche anziata, ha avuto il desiderio di andare in periferia dove ci fosse magari anche un piccolo giardinetto, perché non amava più, mentre prima gli piaceva molto, perché aveva un'altra età. Bene, compra l'appartamento, non lo compra, dà un acconto di 60 mila Euro, poi passa il tempo, poi dopo 12 mesi o quel c'era doveva andare, l'accordo era che qui gli avrebbero lasciato l'appartamento e gli aveva dato 60 mila Euro da conto, ma è la favola che quando va per andare a fare il rogito, questi, guarda, non possiamo andare via perché non andiamo via, ridatemi 60 mila Euro, che problemi che è? No, li abbiamo già spesi. Bene, è andato in tribunale, dopo un anno di tribunale hanno rimandato a due anni, due anni, un amico suo, meno per bene eccetera, ma senti, guarda, vai da Don Ciccio, stia da me, vai da Don Ciccio, organe agenzia immobiliare, malfarca, altre robe, vai da Don Ciccio e lì dici il tuo problema, ma sì ci va da Don Ciccio, vogliamo scherzare, alla mia età io vado, ma no, ha un'impresa immobiliare, e gli dice, non è che te vai dal mafioso, te vai da questo qua, te che sponi un problema, è andato, gli ha chiesto 3.500 Euro, dopo una settimana magari 60 mila Euro, questa è l'Italia, questa è l'Italia, allora Salvini, anziché vuole andare via dall'Europa, ma perché non porta avanti la secessione, la secessione, facciamo tre stati nell'Italia repubblicana, il nord, il centro e il sud, come ha detto Miglio, siamo anni luce distanti dal modo di pensare, non possiamo, 60% di abusivismo, ma è l'altro giorno, ascoltate, Lucia, chi? Proprio con l'arterio, 60%, guarda, no, no, dal 40 al 60% di abusivismo, e il cadà la luce, il cadà che, il cadà là, esatto di questa bassa, allora il sistema migliore sarebbe la Repubblica Italiana, Presidente e tre stati, chi se la gestisce come i vollori, chi se ranga, chi se ranga, e noi ci gestiamo, a limite de presa nella regola Austria, che problemi che, ma noi non possiamo vivere in queste condizioni, perlomeno il sottoscritto, tornato da Malè, sereno, rilassato, ragazzi, vi lascio da incazzato, alla prossima.